Stig Gutta che è il proprietario di moltissimi alberghi qui a Toronto e che è un proud sponsor Quanti film hai visto? Ho visto 4 filmi, stiamo vedendo un altro che è chiamato The Love Punch Oh, molto bello, posso assurarti Il film di Peter Branson, è il mister Bond, ha visto molti film di Bond e abbiamo visto The Fifth Estate, abbiamo visto un film indiano, The Lunch Break e l'altro che abbiamo visto l'esterno, Random They See Romance e i ragazzi abbiamo visto Gravity Non hai visto un film indiano? Ho, due. E qual è il tuo migliore film so far? La Fifth Estate è molto buona e la boxe è buona e questo oggi, l'ho guardato, è chiamato The Love Punch È un grande festival, ogni anno è crescita e crescita It brings 1.5 milioni di persone a Toronto e è il secondo più grande film festival del mondo Oh, è il primo anno, American said Yeah, according to him The American Institute Because of the Toronto Film Institute headquarters here and that has made a big difference, 365 days a week, a year basically every day, we have movies there, there are five theatres and people come and see them, previews for different nationalities Italian, Chinese, Portuguese, Greek, Indian, whatever So, Toronto is a very multicultural city and it makes a lot of sense to have the Toronto Film Festival headquarters in Toronto and to have a great building and to entertain so many people And to have many, many hotels Celebrate art, culture and how the movies are made and meet some of the stars and brings in a lot of business So, it's great to have 10, 11 days for the city, for everybody around and everybody is happy to see their stars Everybody is ecstatic in good mood Weather is beautiful We've had 41 degrees yesterday and then 40 yesterday and it's very nice Thank you so much and see you next year Ok, wonderful We've got a track of the pack Watching them, watching back That makes the world go round Watch that sound Each time you hear a loud and collective sigh They're making music to watch girls bow